salve a tutti io sono robirox e benvenuti mi capita spesso di leggere nei vari gruppi di discussione di alcuni utenti che sbagliano la procedura di aggiornamento firmware o magari spengono la pedaliera in maniera errata magari anche perché è saltata l'energia elettrica insomma vari problemi che causano dei malfunzionamenti al software o magari impediscono proprio la pedaliera di avviarsi e necessitano appunto una mano su come fare il reset di sistema quindi come riportare la head rush allo stato iniziale quindi il factory reset in questo video brevissimo andremo a vedere come effettuarlo su gig board e pedal board cominciamo subito bene allora per fare il factory reset ovvero riportare head rush gig board alle impostazioni di fabbrica basterà premere i foot switch 3 e 4 e tenerli premuti durante l'accensione fin tanto che non apparirà il messaggio reverting nello schermo per head rush pedal board alla procedura è la stessa ma dovranno essere premuti i foot switch 11 e 12 ovvero gli ultimi due a destra spero che questo video possa esservi stato d'aiuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina in modo da essere sempre informati sugli ultimi video che vado a caricare noi ci vediamo la prossima e ciao